Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, non si ferma purtroppo la scia di furti in questa estate. Uno per fortuna è stato sventato, l'altro invece è stato messo a segno. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Mancavano pochi minuti a luna di notte quando hanno scavalcato il cancello e si sono avvicinati all'abitazione. Ma a questo punto il sistema di allarme è scattato e ha messo in fuga i ladri che si sono dileguati nell'oscurità. E' successo lo scorso giovedì nella zona di Pieve Maiano nei pressi del campo sportivo dove si sono registrati alcuni tentativi di furto in un caso immortalato da questo sofisticato sistema di video e sorveglianza di PM allarmi. Le immagini documentano il tentato assalto in una villa con annessa sede di un'impresa edile. I malviventi, come si vede nel video, sono stati messi in fuga dall'allarme prima che potessero attaccare gli infissi per introdursi all'interno dell'abitazione. Le immagini del sistema di video e sorveglianza adesso sono al vaglio dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini. A Ceciliano invece un colpo è stato messo a segno in pieno giorno. In questo caso due uomini, dopo aver forzato gli infissi, sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione e fare razzia di preziosi. Ennesima mattinata difficile per i pendolari e rettini dalle 6 di questa mattina. La circolazione è stata rallentata per un guasto alla linea ad Arezzo e in particolare agli impianti di circolazione che è stato causato dal maltempo. Trenitalia ha chiesto subito l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Alla fine i ritardi sono stati di circa 45 minuti, ma per i regionali si sono verificati anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Intorno alle 9.30 la situazione è tornata alla normalità. Non ci sono feriti gravi, ma file disagi a causa di un incidente tra tre auto che si è verificato oggi intorno a mezzogiorno in A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. Intorno alle 13, i chilometri di coda erano 8, poi sono aumentati fino a 10. I rallentamenti ci sono stati anche nella corsia opposta per via dei tanti curiosi. Autostrade per l'Italia ha distribuito acqua a coloro che sono rimasti intrappolati nelle file. Sul posto la misericordia di Arezzo, la cruce bianca e la misericordia di Lucignano. Tre le persone ferite, un uomo di 37 anni, una donna di 54 e una donna di 39, trasportate all'ospedale della Gruccia e all'ospedale San Donato di Arezzo, tutti in codice giallo. Parliamo adesso di una vera e propria emergenza, è quella che denunciano alcune sigle sindacali del settore sanitario per la mancanza di personale. Questa mattina un vertice in prefettura, ma non c'è stato accordo. Noi registriamo una forte penura di personale, infermeristico, os, ostetrico, ma diciamo di tutte le figure. Però per alcune figure raggiungono livelli drammatici. Prosegue lo stato di agitazione dei sindacati Nursing, Nursing App e USB. Dal tavolo convocato dal prefetto Maddalena De Luca, a cui ha partecipato anche l'azienda sanitaria Toscana Sud-Est, non è uscito un accordo. Il tema in sanità è quello che ormai si trascina da anni, mancanza di personale, turni massacranti e livelli di assistenza, secondo le sigle sindacali, non adeguati. L'azienda si accontenta di questa tipologia di servizio che sta deteriorandosi nel tempo, vediamo sui pronto soccorsi, sui servizi, l'allungamento delle liste d'attese, per noi non è accettabile. La dottoressa Valeria ha accennato al fatto che anche il PNRR è una risorsa, è un'opportunità, perché ci sono degli investimenti importanti da parte dello Stato sulla ASRA. Il problema è che questa opportunità si sta trasformando per gli operatori e per l'utenza in maniera particolare in una sorta di calvario, perché ci sono stati degli spostamenti incontrollati per eseguire lavori finanziati dal PNRR in altre strutture che non sono assolutamente adeguate. Questa è la posizione dell'azienda sanitaria all'uscita dal tavolo di confronto. Siamo pronti all'ascolto con tutte quante le organizzazioni sindacali e ci possono essere delle criticità come in tutte le famiglie, perché su 11.500 dipendenti 5.000 sono delle professioni sanitarie e tecniche. Abbiamo 500 persone in più rispetto al 2019, anche il piano delle assunzioni con il dottor Franchi viene fatto annualmente e scorso semestralmente. Secondo noi quel piano delle assunzioni non ha ragione d'essere, è stato costruito in maniera sbagliata, senza un modello organizzativo vero, per cui i numeri di loro sono giusti, ma anche i numeri di nostri sono giusti. Loro sono sbagliati e i nostri sono sbagliati, ma semplicemente perché non esiste un modello organizzativo per il quale l'azienda ci dice mi serve questo personale e quest'altro personale. Quello che noi registriamo in questo momento è sicuramente una sofferenza all'interno dei reparti importante. Abbiamo una generalizzata riduzione degli schemi di servizio che a nostro avviso mette anche in pericolo la qualità e l'efficienza delle cure. Una bimba di 10 mesi è stata salvata all'ospedale San Donato di Arezzo grazie ad un approccio multidisciplinare. La bimba era arrivata in pediatria con la sepsi, una rara complicazione di un'infezione e le cui conseguenze possono essere molto gravi fino ad essere mortali. Una volta confermata la diagnosi la bambina è stata sottoposta a terapia antibiotica specifica, ma è stato necessario sia per la diagnosi che per poi le cure un interverto appunto di molti professionisti. La bambina, afferma il dottor Marco Martini, direttore della pediatria di Arezzo del Casentino, era stata ricoverata con febbre e pianto. Abbiamo subito sospettato uno stato settico, è stato necessario l'intervento di un team di alto livello. Nel complesso poi la bambina ha potuto beneficiare sia di una diagnosi precoce che di una terapia adeguata. Un qualcosa che fino a poco tempo fa avveniva solo in centri di terzo livello. Oggi avviene anche all'ospedale San Donato di Arezzo. Rimaniamo in tema di sanità perché raggiungere la chiamata di un eventuale soccorso per i soccorritori del 118 sarà più semplice nel territorio del comune di Arezzo. Sentiamo perché. Si può quantificare in termini di minuti risparmiati? Ma si può, dalla statistica fatta nel periodo di prova, si ha un vantaggio netto standard di 60-90 secondi, che in caso di codice rosso farà differenza. Arrivare sul posto da parte dei soccorritori sanitari in caso di emergenza sarà più facile grazie ad un sistema di geolocalizzazione elaborato dal comune di Arezzo. Un lavoro complesso che ha riguardato tutto il territorio del comune capoluogo e che adesso consente, con un unico clic, di localizzare il sito della chiamata al 112 nel minor tempo possibile. Il raggiungimento è immediato e soprattutto è a errore zero, cioè il margine di errore di un metro. La segnalazione quindi è una segnalazione che permette al mezzo di soccorso, noi pensiamo all'ambulanza come mezzo più importante, di raggiungere l'abitazione, il luogo necessariamente dell'emergenza, in tempi tali da poter arrivare prima possibile, con più agio possibile, senza errore. Cosa importante quando si parla di città sicura, credo che la sicurezza in questo sia determinante come altre questioni. Il sistema consente di individuare con precisione ogni abitazione del territorio comunale, di localizzare tutti i numeri civici anche nelle località dove non ci sono denominazioni stradali. Attraverso una nuova mappa interattiva gli indirizzi vengono tradotti in coordinate geografiche e dalla sala operativa del 118 possono essere inoltrate direttamente ai mezzi di soccorso. Di fatto ci siamo sempre basati su delle mappe tipo Google Map e altre mappe di altre piattaforme che si integrano, danno la strada corretta e il numero civico presumibilmente in quella zona. Però con questo sistema abbiamo la certezza matematica, perché il lavoro del Comune di Arezzo è stato veramente imponente, abbiamo la certezza di andare direttamente alla portone di casa dell'utente che chiama. Ecco, questo riguarderà solo il territorio del Comune Capoluogo, sarebbe auspicabile che si potesse allargare? Beh, certo, sarebbe un valore aggiunto, anzi, colgo l'occasione per chiedere e lanciare questo appello anche agli altri comuni della provincia di Arezzo di poter fare un lavoro del genere come questo che è stato fatto dal Comune di Arezzo. Ecco, questo ovviamente è un qualcosa in più nel Comune Capoluogo, ma se si formula il 112, insomma, il soccorso arriva. Esattamente, il sistema d'emergenza della sud-est è un sistema virtuoso, noi abbiamo già un sistema di numero unico dell'emergenza, il NUE, che è l'112, che gestisce le chiamate e geolocalizza il chiamante. Ovviamente con un sistema come questo messo a disposizione dall'amministrazione Aretina, significa, come diceva Samuele Pacchi, individuare correttamente la porta di casa degli utenti con la possibilità di errore di un metro, quindi capite bene che assolutamente il tempo è prezioso in questi casi. Un'azienda su due non trova il personale per la propria attività, è davvero un'emergenza quella appunto che denuncia il presidente di Confartigionato Imprese Arezzo, Maurizio Baldi. La quota di assunzioni difficili da reperire sta aumentando vertiginosamente, dice. Nel 2023 è stata superata la quota del 50%, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto sull'economia del nostro territorio, presentato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Se da un lato il tasso di disoccupazione ci parla di una provincia in buono stato di salute, dall'altro ci mette di fronte a una difficoltà per le imprese non più procrastinabile. Tutto il sistema a 360 gradi deve essere in grado di creare le condizioni per abbassare questa percentuale davvero molto preoccupante. Il dialogo con la scuola, dice ancora Baldi, è apertissimo, ma non basta. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, responsabile per gli enti locali a livello regionale della Lega, è stato anche scelto come consigliere nel CDA di Invimit. Si tratta della Investimenti Immobiliari Italiani, una SPA di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notizia è stata pubblicata da Milano Finanza. E siamo alla pagina degli spettacoli con i prossimi due servizi, a firma di Chiara Sadotti, vi raccontiamo la giornata finale e non solo del Festival Naturalmente Pianoforte che si è concluso nelle scorse ore in Casentino. Si è conclusa con un grande successo la settima edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival che ha animato il Casentino dal 16 al 21 luglio, trasformando la ballata in un teatro a cielo aperto. La musica è ovviamente la spina dorsale, il punto di non ritorno di questo festival che nasce con un nome, naturalmente Pianoforte, che più che era non si può. È chiaro che intorno al pianoforte ruotano e circolano diverse anime, diverse sensazioni e diversi linguaggi. Quindi uno dei linguaggi, quello della musica, viene poi interfacciato, viene attraversato da tanti altri momenti che sono poi a disposizione del pubblico, non solamente a Prato Vecchio Stia, ma un po' in tutto il Casentino, i borghi, i castelli, il monastero di Camaldoli, insomma abbiamo frequentato tutto. Il festival ha raggiunto quindi i risultati importanti, diventare un festival di ballata e contaminare il pianoforte e la musica con le altre arti, un'energia che si è sprigionata e fusa tra le verdi colline del Casentino. Energie che si fondono, che prendono forma, energie non soltanto locali, ma anche energie che arrivano da fuori perché abbiamo, oltre agli artisti, tantissimi giovani pianisti che arrivano da tutta Italia, che sono stati qua per una settimana, tra chi faceva masterclass e chi invece ci ha alletato nella colonna sonora, quindi suonando i pianoforti. Grande impatto emotivo anche per la carovana di Naturalmente Pianoforte che con l'arrivo a Prato Vecchio ha chiuso un anello di 70 km in 5 giorni. Ce l'abbiamo fatta! Tra gli appuntamenti musicali di spicco quello con Eugenio Finardi con la sua Eufonia Suite assieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile al pianoforte Raffaele che saranno al sax. Ho immaginato di incollare questi pezzi, di creare con questi pezzi suonati, con questa formazione, quindi con tantissime improvvisazioni e giocando tantissimo con le armonizzazioni, di legarli in una suite di composizione estemporanea, come la chiama Mirko Signorile, che non è proprio improvvisazione nel senso normale del jazz, ma il cercare una musica totale, una musica che non sia né jazz né classica né eccessivamente pop, che contenga anche dissonanza, musica contemporanea. Ad aprire l'ultima giornata invece un'esperienza unica all'alba alla Pieve di Romena, Stelle Disorientate, un concerto per pianoforte, algoritmi ed elettronica con Teotardo. Sigla finale di questa stagione idealmente assegnata a Tosca alla guida di un quintetto per uno dei concerti più eleganti e intensi del panorama made in Italy, la bella estate. Pur avendo un leader, però è importante il lavoro di tutti, anche la parte solista di tutti, e quindi diventa un ricamo prezioso fatto a tante mani, è bellissimo anche per me ogni sera. Non solo musica, naturalmente pianoforte, ma anche incontri culturali ed artistici. Nel Parco delle Foreste Casentinesi, Claudio Facchinetti, giornalista pubblicista dal 2004 e biologa Marina, ha presentato per la prima volta il suo nuovo libro per bambini, Lasciami andare. La natura ci insegna tantissime cose ed è il mio compito proprio quello, almeno quello che io ho deciso, è di dare voce alla natura attraverso la narrazione, attraverso le storie, tutte storie vere da cui parto, per andare a toccare il cuore di tante persone, non solo degli appassionati di scienza, ma anche di chi di scienza non si occupa e di chi non si è mai interessato della scienza, ma in realtà è proprio, la natura ci insegna talmente tante cose che non si può non ascoltarla. Il libro racconta la storia seguita in prima persona dalla scrittrice di una famiglia di orche che approda stranamente nel porto di Genova. Le orche nel Mediterraneo non ci sono, si erano ovviamente perse, erano arrivate per motivi che ancora oggi non hanno mai scoperso, con un cucciolo gravemente malato. E quindi questa mamma orca non ha mai voluto lasciare il cucciolo, per molti giorni è rimasta con lui, lo suo capezzale, anche quando non c'era più speranza, finché appunto ha dovuto lasciare andare, attraversare la tempesta e andare avanti. Quest'anno il festival ha poi ospitato per la prima volta la residenza di arte contemporanea Traccia nel Vento. Gli artisti invitati hanno realizzato vessilli pittorici negli spazi di Prato Vecchio, le opere poi sono state esposte all'ex Lannificio Verti e la pittrice Alessandra Chiappini infine ha donato il suo standardo all'azienda Estra, sponsor del festival. È un'opera che si colloca nell'ambito del paesaggio, come faccio da diversi anni, insomma, è il mio tema. È un paesaggio che di solito si concentra sull'idea della vastità, della luminosità. In questo caso è stato particolarmente ispirato dal verde straripante, esuberante, che ho trovato lungo l'Arno qui e che mi ha proprio dato una sensazione molto molto forte che ho cercato di restituire. La nostra postura anche imprenditoriale e commerciale non può che essere nel segno della prossimità e quindi a sostegno di tutte le iniziative che qualificano e distinguono un territorio bello come il Casentino che ospita ormai da sette anni una manifestazione di alto livello culturale ma leggibile anche alle persone meno addentro alla cultura musicale. Qualcosa che sta promuovendo ulteriormente un territorio, un'area interna, che ha bisogno di strade nuove nel segno dell'ambiente e anche della cultura per tornare a godere di uno sviluppo sostenibile. Si inaugura domani la seconda edizione di Opera Seme Festival in scena nel bellissimo chiostro del comune di Arezzo. L'opera buffa il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa con l'orchestra instabile diretta dal maestro Raffael Gordillo. L'appuntamento è per le 21.15 con ingresso gratuito. L'opera, una commedia in due atti, racconta la storia di un matrimonio segreto tra Carolina e Paolino che cercano di ottenere l'approvazione del burbero Geronimo, padre della sposa. Siamo alla pagina dello sport, anzi insomma la possiamo definire a metà tra lo sport è davvero un'impresa, in questo caso da Guinness, dove tra l'altro, e ovviamente questo non guasta, c'è entrata anche la solidarietà. Sentiamo. Gli ultimi cinque chilometri per centrare il Guinness World Record di triathlon sulla lunga distanza, uno dei più duri da realizzare, ha deciso di percorrerli al palco Pertini ad Arezzo. E infatti è retino all'Ironman da record e risponde al nome di Tommaso Fusco, atleta di 22 anni. Mi fa piacere perché ci sono molti amici, molte persone, è comunque sempre bello il fatto che ho fatto la maggior parte delle corse qui, quindi mi fa piacere finire e concludere qui nella mia città. La sfida, sostenuta dalle associazioni Lardita e Arezzo Gravel, è stata annunciata lo scorso 14 maggio, tre giorni dopo la partenza verso la conquista di un doppio obiettivo, il primo completare 41 half Ironman consecutivi, il secondo realizzarne 71. In totale ho percorso 8.000 chilometri qui nell'Aretino, giornalmente ho dovuto fare due chilometri di nuoto, per la maggior parte del tempo ho nuotato al lago Trasimeno, qualche volta occasionalmente in piscina, poi ho fatto 90 chilometri di bicicletta qui nella Val di Chiana e 21 chilometri di corsa. saltuariamente, cioè per cinque volte ho dovuto fare questo esinerario per due volte di fila nello stesso giorno, per circa 14 ore nell'alco della giornata, per finire prima perché il caldo mi spaventava molto, infatti anche oggi abbiamo scelto questo orario perché c'era un po' meno caldo. Tommaso così ha conquistato ben due record mondiali in questa difficile disciplina sportiva. Sicuramente mangiare bene e tanta tanta testa, quindi assolutamente è importante vivere alla giornata e non pensare mai al traguardo completo, quindi chiaramente fin dal giorno 1 pensavo solo al giorno 1, diciamo così, perché sennò impazzisce la sfida prevarica su quella che è la tua motivazione nel farlo. Un record all'insegna anche della solidarietà. Tommaso infatti è diventato social runner, aprendo online una raccolta fondi per sostenere il lavoro umanitario di Oxfam per portare acqua pulita nelle comunità colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Unisciti a me, insieme possiamo fare la differenza a fianco di Oxfam Italia. Per la prima volta nella storia un team interamente composto da piloti con disabilità prenderà parte ad una competizione endurance il prossimo 22 settembre. A guidarlo ci sarà Lucas Cassa, retino classe 83, un grande pilota di moto, vice campione iridato nell'endurance e due volte campione italiano. I piloti sono Alex Innocenti, conosciuto come Lo Scassato, con esperienza a livello nazionale e internazionale, 42enne, nato a Orbetello, paraplegico dopo un incidente nel 99. Jacopo Gullà, privo di una gamba dopo un incidente in moto, e Umberto Troisi, senza funzionalità di una gamba dal ginocchio in giù, a causa di un tumore al femore. Sono indubbiamente tre straordinari esempi di determinazione e abilità che rappresentano al meglio lo spirito di inclusione e resilienza e che saranno appunto guidati in questa bella avventura dall'aretino Luca Scassa. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, però non cambiate canale perché come ogni lunedì, subito dopo il nostro telegiornale, c'è la consueta puntata di Fattore di storie di donne, una trasmissione in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo pronto donna e quindi insomma da ascoltare con attenzione anche per coloro che avessero bisogno di aiuto. Ci sarà un importante messaggio. Ospite di questa sera, Maria Pia Nannini, una vita spesa per l'insegnamento e per i ragazzi, oggi referente per l'Associazione Intratevere e Tarno di tutti gli incontri dedicati all'educazione civica. Grazie per l'ascolto e buona visione. Arrivederci. Grazie per la visione.